Siamo con Khalid, vincitore della prima Movimentiamo con il Sarzana, con i suoi gioielli. Allora, impressione, a chi dedichi questa vittoria? Allora, faccio parlare a Jal, vediamo, sentiamo cosa... A mio nonno che è guarito e alla Mondiali del Marocco, bravissima! Vuoi dire qualcosa? Bene, va bene, concludiamo così... E forza, forza! Forza Khalid! Forza Khalid! Forza Khalid! Forza Khalid!